Alcune intelaiature in metallo sono già state installate con la predisposizione per le aperture dei portoni e lo spazio centrale per campanelli e videocitofono. Si va infatti verso la chiusura delle gallerie dell'ex palazzo standa a Campodimarte come disposto dall'ordinanza a firma del sindaco Alessandro Ghinelli concertata assieme al prefetto di Arezzo. Però lo facessero. Perché? Perché è pieno di gente che parcheggia più o meno dignitosamente dentro queste gallerie. È veramente una vergogna. Almeno è un inizio e speriamo che possa migliorare la situazione che onestamente non è il massimo al momento per tutto quello che succede tra urla, risse e tutto quello che c'è qui intorno. Una misura che si era resa necessaria a seguito di episodi di microcriminalità e spaccio che si erano consumati all'interno delle gallerie del palazzo dalle quali si accede sia ad abitazioni che esercizi commerciali. Penso che speriamo di risolvere qualcosa perché è da un po' di tempo che ci sono dei problemi abbastanza gravi. Tipo che la sera non si può transitare in questa galleria perché ci sono gente che è un po' poco raccomandabile. Io ho un'attività qui e ho anche dei problemi con gli operatori che lavorano, che smontano a una certa ora e quindi hanno paura anche a passare attraverso questa galleria. Le gallerie resteranno chiuse 24 ore su 24 e vi si potrà accedere attraverso un videocitofono. È molto degradato, qualcosa servirà, non risolverà tutto però.